Mi sono studiata per una settimana il libro gioco e ne ho tirato fuori la struttura per la nostra storia interattiva. Funzionerà così. Noi saremo i personaggi e saremo sparsi in giro per il villaggio, invece i partecipanti formano una squadra ogni famiglia e seguono il percorso che fa Dorothy. Ad ogni tappa i concorrenti dovranno fare delle scelte, superare delle prove ed annotarsi nel kit che avranno fin dall'inizio le parole magiche e gli indizi che serviranno poi per lo scontro con il mostro finale. Grazie a me! Grazie a tutti!